fa! io non bagno, non bagno! fa! fa! ma buongiorno! no! andiamo? o no? andiamo? andiamo? o no? dove andiamo? dove? dove? no! o no? sei pronto? manda in palestra? sei carico? a cincilla come siamo messi? bene? è bello gonfio? va senti qua! è un bel piccioccolo! è un bel piccioccolo? no! è levato di coglione! fammi prendere la tua goccia di cappella in pace! un po' la coccina! non mi puoi da solo i bacini! dammi un bacetto! tu mi puoi prendere i cappella addosso! io te vedo! te la levato di coglione! perché devi pensare sempre male? devi stare tranquillo! dammi un bacetto dai! dammi un bacetto dai! oh di buongiorno a tutti! eh! buongiorno a tutti! ma facetemi mangiare! ma fammolo mangiare! fammolo mangiare! mi sono trasferito in sicilia! si sta veramente bene! è una bellissima regione! si mangia bene! volete sapere dove sono? precisamente! sono a trapani! oh! sei pronto? sei pronto? cammina! cammina! alenti! come scende le scale? fa vedere un po'! fa vedere come le scende le scale! come le scende le scale! come le scende le gambe! mamma mia! quasi 93 guardatelo! nooo! 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 nonna marì! sei carica? molto! allenando in cincilla! eh! stai allenando in cincilla? oh! stai allenando in cincilla? Si! fa sentire! ah! fa sentire il cincilla! eh! a quanto stai? 75 che potenza puoi essere incinta se è forte sempre il gesto, sempre il giro, sempre il storio, aiutatemi Loro sono andati a fare spesa, gli ho dato il banco matto tuo non sarà vero? si è vero tu tonti corni ma perché? spendere i tuoi soldi ma che? che gli hai dato il banco matto tuo ma avevo là dentro i tuoi soldi no dai, fai spendere i tuoi soldi ma che spendere i tuoi soldi? che mangiamo? quello mi finisce che mangiamo? mangio questo cazzo, allora con i tuoi soldi mi vuole mangiare volevo provare se si apriva, se si apre ma ora chiudi questo tettino che piove ma piove? ma chiudete qui dai dai che facciamo? facciamo la doccia? dai dai, è bellino chiudi questo tettino ma mica piove tanto stronzo! mi fa molla tutto, chiudete qui chiudi questo tettino mangio ah lei ci andiamo a fare in giro col tettino ma no che piove dai, mica piove tanto mangio eh che sei ha 33 anni e sei stupido così ma va figa va nooo come no, figa col pelo col pelo come? pelo, molto pelo che stai urlando sotto? oh il coso dici compreso il coso la barba il sapone ma non c'è è sincero che urli con me? io ne ho parlato di qualcosa non c'è ecco perchè mi suonava eh e allora lo stai allora l'hai presa tu l'hai presa tu sei sbirbaccione io l'ho preso no, certo arzuche oh sente come suga arzuche, arzuche, suge, suge, arzuche oh, questi è in 50 grammi, no? quel montone che c'era ma quale l'hai da fa' sta barba? ma quale l'hai da fa' sta barba? ma tu guadagni su nessuna rivata ma quale l'ha fa' il duro perché? perché? chiara 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 eccolo mannaggia è salita un'altra scrofa no tira su questi sedili ma perchè dici questo? ma vaffanculo là ma si tira giù da solo dai Enrico guardate che roba guardate che scatolone eh Enri che c'è sta lì dentro? top eh ma che dovremmo fare con tutta sta roba boh eh? top secret top secret top secret top secret comunque con tutti questi giri non ho capito ancora da che parte stiamo eh beh comunque sono anche contento che mi porti via eh certo passo un po' di tempo se no da questa casa davanti a quella sporca televisione che non c'è mai niente ma sei matto? e il tempo non passa mai divento tonto vabbè che non è che sei tanto sveglio eh sei un po' rincoglionito no no io rincoglionito ci verrò vanno passati cent'anni questi per rincoglionire un tantino ma ancora la voglia dai quindi sei contento? e beh almeno vedo qualcosa ma la sorca c'è? eh la sorca di qui c'è come sai di qui c'è la notte insomma io la notte sto nel letto mica vengo di qui è contento bambino si perché ha fatto il postino guarda è arrivato questo qua guarda che spettacolo grazie a me quando l'hai visto? eh bellissimo questa pazienza allora vieni per favore no 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 non ci casco guarda o no mettilo eh ma te cammina che io mettilo ma cammina che tu sta a farci la testa io bello questo? com'è? sta? pieno sta pieno no vabbè com'è? com'è? o no? guarda sta pieno non c'è chi è non c'è provato che si scendono fermati basta capito tu ombrellate non c'è provato che scendono arrivate e facete un casino scendono eh eh scende si scendono non fa brutte figure che si scende fa brutta figura bello bello roma eh tienmelo a bada e adesso pensiamo noi eh anche il sedile li abbiamo asciugato ah si? dal principino del coccodrillo eccolo controlla controlla la pressione del sottopalla questo è il coso? del cincillà si il pelo del cincillà e la pressione del sottopalla controllo tutto il cincillà ma non l'hai portato eh fattelo di ha scroccato ha scroccato anche oggi e ti pareva un po' di figa anzi di fighi eh eh nonna maria sai quando le vede nonno ma che rossetto che hai messo che capello alla maria dona rossetto rosa come mai abbandonato il rosso oh come mai abbandonato il rosso del democchio smettila che giulpe smettila eh come mai oh smettila allora come mai oh donna maria oh come mai oh e danno appia la porchetta la porchetta sei sorda allora in tanti mi state scrivendo questi cappelli ancora non sono disponibili ma vi piacerebbe avere un cappello sta pieno si o no eccolo sta pieno tu 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 chi c'è oggi chi c'è ma domani che giorno è si 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 e venerdì si 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 venerdì si 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 venerdì la colpa che ti si spegne il kart perché sei scandaloso eh sei con la retromarcia sei 20 kg in meno mi ha buttato fuori dentro mi ha buttato fuori si si ma lì indietro c'è la lumaca sei disonante lumacone oh no oh no oh no oh no oh no oh pollo al curry se te l'ho lanciato se pollo al curry to se se mangio solo pollo al curry se guarda che sorga che ti ho fatto se se pollo al curry lanciato se se pollo al curry o no no oh no e questi sono pollo questi sono pollo questi sono pollo questi sono pollo mettila mettila dio no ah taradan anna 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 fai il duet fai il duet fai il duet fai il duet va bene addio nooo 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 ma fai il duet ma fai il duet ma era bello il duet mi hai fatto sbattere il dento la sua io è un po' male che si fa io fai vedere un po' eh ma la bua vale c'ha più un dito volevo fare due che stai fai scrooge che stai fai ma come stai fai il cervello che stai fai questo mica c'è là il cervello ah c'è là il cervello vieni a fia e che c'ho invece che il cervello eh vieni a mettere che fai tra i propri scenari lascialo via tante sceglie bello che me lascia via ma insomma 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 io vuoi fare le nanni eh eh sciatte di coglioni vai sei pronto questi tre c***i? io non so pronto per niente io ti fa un pennello si e io adesso più il bastone io ti fa un pennello mai più il bastone non ti fa il pennello no insomma ti fa il pennello nooo 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 buonanotte oh ci vediamo domani si stufa sempre accesa anche a giugno eh mi raccomando direttamente mi raccomando la stufa sempre ben accesa ok oh nooo anche oggi giornata finita si punta dritti dritto dritti mi incanto però ci sta per me è tardissimo si punta dritti a domani che domani è una giornata speciale perché è speciale si 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 domani continuate voi voi ho belli carichi anche perché questo weekend accadrà una cosa molto molto bella ma anche più bella a fine mese vedrete raga preparatevi mettetevi il casco che è una bella bomba io vi auguro la buonanotte niente ci vediamo domani vi voglio bene adesso spazio le vostre storie